Un bel sorriso. Occhi che parlano quelli di Sara Pizzato, la donna di 42 anni vittima dell'incidente accaduto lunedì mattina a 9. Erano le 7 quando la sua auto, una Mercedes classe A, si è scontrata con un tiro all'incrocio tra via Martini e via Pezzi. Una mancata precedenza, l'inganno di un semaforo lampeggiante. Sara era riuscita a chiamare i familiari appena accaduto l'incidente, poi era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ricoverata in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale, Sara Pizzato non ce l'ha fatta. Il suo sorriso si è spento poco meno di 24 ore dopo l'incidente. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno tra Nove, Bassano e Cassola dove Sara aveva il suo studio. Una famiglia molto conosciuta, quella della donna. Il papà Ampelio, mancato una decina ed anni fa, era stato assessore a Bassano e direttore del Consorzio Tabacchi. Anche Sara era amatissima. In negozio continuano ad arrivare fiori, la sua bacheca sui social si è riempita di messaggi. Sara lascia un figlio adolescente, la mamma e la sorella. L'ultimo saluto si svolgerà all'aperto nel cimitero di Campese venerdì alle 11 per permettere alle persone di partecipare. Il giovedì sera alle 20 la preghiera del rosario. Un momento di preghiera ritrovo già nel tardo pomeriggio a Cassola davanti al negozio di Sara.